Cindy Crawford ha iniziato da qui, come Stephanie e Simu Regiselle Bunchen, top model ancora sulla cresta dell'onda, lanciate da Elite Model. Una opportunità professionale ed un'avventura personale che può ripetersi per tutte le ragazze ed i ragazzi che giovedì 10 maggio, dalle 13,30 alle 18 riusciranno a partecipare all'edizione 2018 di Elite Model Look Italia alla Galleria Commerciale Porta di Roma, Roma, terzo dei cinque appuntamenti organizzati in altrettanti centri commerciali del gruppo Clépier. Il casting è gratuito e aperto a ragazzi e ragazze in possesso dell'alcittadinanza italiana, di età compresa tra i 14 e i 22 anni, di altezza minima 172 centimetri per le ragazze e minimo 183 centimetri. Si partecipa compilando la domanda di iscrizione e allegando tre fotografie, primo piano, mezzo busto e figura intera, su www.elitemodelook.it oppure presentandosi direttamente giovedì 10 maggio, dalle 12 alle 16 alla Galleria Commerciale Porta di Roma. Grazie al concorso Elite Model Look si sono affermati alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del momento come Vittoria Ceretti, in l'Italia 2012, Greta Varlese, in l'Italia 2014, Matilde Rastelli, in l'Italia 2015, Sergrid Vava, in l'Austria 2014, e Davidson Obennebo, in l'Nigeria 2016. I casting Gelman hanno preso il via il 18 aprile da Caserta, proseguendo a Savignano sul Rubicone. Prossimi appuntamenti, mercoledì 23 maggio, Centro Commerciale Nave De Vero, Marghera, VET, e martedì 17 luglio Centro Commerciale Milano Fiori, a Sago, MI. Nel corso dei casting, i model manager di Elite selezioneranno i semifinalisti che saranno convocati al casting nazionale del 18 luglio a Milano, che si terrà presso il Verti Music Place di Radio Italia, radio ufficiale Emily Italia 2018. Al termine della giornata verranno selezionati due vincitori assoluti, una ragazza e un ragazzo che rappresenteranno a fine anno 50 Italia la 35esima Elite Model Look World Finale. Per maggiori informazioni il sito di Elite Model Look Italia è www.elitemodelook.it Facebook, chiocciola elitemodelook.it Instagram, chiocciola eml sottolineatura Italia Astis, cancelletto emlitalia cancelletto emlitalia 2018